Buonasera a tutti, benvenuti su SG Collection. Partiamo. Questa sera vi voglio consigliare un film che va visto assolutamente, che il sottoscritto ha visto proprio ieri. Sto parlando di Sully, un film di Clint Eastwood con Tom Hanks. E' tratta appunto la vicenda di un pilota che riesce a salvare 155 passeggeri riuscendo a far atterrare un aereo sul fiume Hudson. Un film dalla regia interessante di Clint Eastwood che non sbaglia mai un colpo film dopo film, nonostante l'età avanzata. Io vi consiglio di vedere Sully perché è un film che rievoca molto lo spirito, soprattutto del coraggio americano, ma può essere anche visto come un salvataggio che è entrato nella storia perché effettivamente sono cose che succedono raramente. Perché un incidente aereo purtroppo nella maggior parte delle volte è fatale. Poi anche per le inquadrature magnifiche che lasciano senza fiato. Insomma, Sully è un film da vedere assolutamente. Fatemi sapere la vostra su Sully se l'avete visto. Ci vediamo al prossimo appuntamento da SG Collection.